eccola qua siamo tornati da quanto tempo che non c'erano ritorno a casa con i premi cos'è qua che è cambiato da qua ci sono due palloni una robata è cura 08 e lui ormai non fa più video sul canale ragazzi sentito io faccio un canale nuovo che si chiama ibrahim dai dai il pallone salutare tutti matam 08 che adesso faccio un canale nuovo che si chiama ibrahim vunghen con l'argesh quindi ragazzi state attenti che i brava aprirà un canale dai ragazzi iscrivetevi su cosa fai oh cavolo ma fai tutti i video così eh no ah li fai anche con tuo fratello no io lo faccio con mio fratello però in egitto io ho fatto no io ho fatto mio fratello ho fatto due video qua in italia il tuo fratello lo fa lo youtuber si metti di qua metti di qua dai però non riesco a prendere con la palla mi prendo una palla passa dammene una sì però vai continua e poi occhi che c'è il tuo rivale c'è il tuo rivale dai andiamo 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 basta fare male al palo eh è il tuo amico palo è il tuo amico il palo 94 ora che c'è il numero 94 94 palo 94 palo si trovo ma chi cazzo è ma quello è una fama no andiamo 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 comandando vibra 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 oh 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 ok ehm ma ancora ma ancora oh ma che cavolo è oh pori cazzo è corri che ansia mi hai fatto venire un'ansia 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 mi hai detto che cavolo è ho girato l'angolo e ho visto Matt Amber 08 che mi stava correndo addosso non so se l'avete visto è che buonga il resto è quello che è è stato inquietante mamma Dio mamma mamma Dio ma mi ha Georgi 4 malato a faranzata non era Nicola oh una pallilla di Pasqua oh Lamborghini dove è Lamborghini no era qua adesso spero antorrompere i palli ecco il Lamborghini oh l'hamborghese, vieni qua solo come il cazzo no dai andiamo ma sta di toccando il cane di cavolo oh dov'è il cane? oh mio dio, non c'è la chiavetta oh mio dio oh c'è il cane che abbaglia c'è il cane che abbaglia matam08, questo è l'ultima matam08 baldini? no che baldini e sono gli old baldini dai andiamo va oh ci sono loro, ci dono no non lo fare che cazzo che cazzo hai fatto fai finta di me andiamo andiamo non me ne frega sento svegli basta non me ne frega io fumo gioco riuana oh e io andiamo dai no non chiede panna non chiede su zinca scusa che cazzo no no che cazzo oh guarda avanti avanti quante immondizie che c'è oh e oh oh ibra ibra oh e oh ma quando mi dico va a cadare questo è la cazzo oh 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 e oh amore mi vedi oh 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 or no oh Ma che cazzo ne è? Lascia E' un piccione E' un piccione E' un piccione E' un piccione morto Cazzo L'ho fatta spaventare il piccione del merda E' un piccione del tagli Eh, l'ho fatta spaventare No, 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 no Non lascia spaventare Non lo toccare Passo l'acero? No, 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 no Ok, ma lo faccio ti sei spaventato eh si ha tirato un calcio il foglio ha tirato un calcio chi è lui? no no non posso dire perché c'è una che stai guardando il video hai capito? ah si è vero non posso dire il cavolo non mi riferisco in calcio non mi riferisco in calcio ti sei spaventato che fosse quel piccione era un uccellino ti sei spaventato mi rompi sempre mi rompi sempre dai finisce qua il video ma cosa dice? facciamo un altro video ma no continuiamo con questo allora no 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 non chiudo io chiudo eh Tri no 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 saluta saluta ciao sono scherzando non è ancora riuscito un pezzo di merda fallo fallo vedere il dito medio fai vedere il dito medio sono guanti ecco sono guanti mi capo che era un uccellino e l'hai tirato un calcio oh l'hai tirato un calcio all'uccellino pensavi che fosse un foglio tu ero un uccellino povero era un piccione morto era pesante come si chiama quella cosa che piccolissima come si chiama? non lo so mi ricordo oh ma tu non ricordi niente tu devi scopare basso se tu scopi se tu scopi ricorda tutti anche se tu scopi quindi ragazzi ricordatevi oh 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 tutto un cazzo si si quello un panno non c'è niente e possiamo scordare il culo e poi mi diciamo mi penso mi troppo buono e cosa fa? cosa fa cosa? dai ragazza quando tu dici vieni sul mio culo buono e tu si ma scopi la mazzetta si cosa hai scherzo? si che palle era un piccione ti sei cagato no 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 dai ma non dire cagate cos'è che è? un mio cognome fa vedere togli diavo oh cazzo ho scherzato veramente dai che finisce qua il video dai io fallo finire il video oh sono già passati 11 minuti eh ciao 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 ciao